Ancora il Milan, il lacrosse in aria, velo di Cassano, attenzione, Boteng, Rete, Boteng! Proprio Aquilani, che d'interno piede, la difesa qui sicuramente non nelle marcature giuste, ma come tiene... Va il tiro deviato Cassano, insiste il Milan, Cassano è chiuso, scarica ancora su Boteng, Rete, Kevin Prince Boteng! Che entrata ha fatto questo calciatore, ha calciato quattro volte due gol. Ancora Boteng, non calcia di grande precisione, il rimpallo però... Rooney, ha fatto l'altra volta! È Rooney, è inevitabile! Ho, 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 ho! Alcune cose sono solo pensate di essere... Wayne Rooney ha salvato il suo primo senore hat-trick per il suo debut di Manchester United in la Liga Champions. La squamera��가 nel settembreortic modo di essere... ... ... Messi sta al secondo, che golazo! Messi gol! Goal! 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 Penso che Luca non abbia toccato per attra, però guarda Messi ora, perché non? La frutilla del postre può essere! Messi golazo! Goal! 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 Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.